I dati sono, come dire, disastrosi, evidentemente c'è una grande crisi in atto, lo sappiamo tutti. Nella professione giornalistica il 50% degli iscritti all'albo, all'ordine dei giornalisti che è un ente di diritto pubblico, non praticano questa professione o comunque non hanno reddito da questa professione. Quindi su 100.000 giornalisti italiani 50.000 lavorano e gli altri 50 no, pur essendo iscritti, pur dovendo pagare un'associazione, proprio perché essendo un ente di diritto pubblico per poter continuare a essere giornalista l'iscrizione all'albo va pagata tutti gli anni. Questo evidentemente è un dato molto grave, molto importante. Un altro dato che emerge dal nostro rapporto, il rapporto, ripeto, è dal 2009 che lo redigiamo, i dati purtroppo non sono cambiati un granché, casomai sono peggiorati nell'arco degli anni. Il rapporto l'abbiamo presentato l'ultimo, esattamente una settimana fa, alla Federazione Nazionale della Stampa qui a Roma. Un altro dato molto forte che esce da questa analisi è che 4 giornalisti su 10 fra i freelance, che sono una parte considerevole degli iscritti all'ordine dei giornalisti, perché considerate che 16.000 giornalisti sono quelli che hanno lavoro dipendente, che quindi sono dipendenti da aziende giornalistiche, tutti gli altri si arrabbattano in figure e con contratti diversi dall'articolo 1, che è quello appunto che prevede l'assunzione dentro una redazione. 4 freelance su 10 non hanno reddito, è un altro dato che emerge da questo rapporto. Noi studiamo anche come centro di ricerca sul giornalismo l'andamento appunto di questa professione, non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista della qualità della professione. La nostra professione che è appunto in gravissima crisi per quelli che sono i numeri, è invece, secondo noi, è in assoluta controtendenza con quello che è il sentire comune, invece sta vivendo un momento di grandissimo livello, una vera golden age. Perché? Perché in mezzo a tutto questo c'è stata una rivoluzione nella cultura, che non è una rivoluzione esclusivamente tecnologica, anzi, che è una rivoluzione partita dalla tecnologia ma che è finita poi nella cultura, che è quella del digitale. Secondo noi, secondo le nostre valutazioni, secondo i nostri studi, secondo soprattutto la comparazione degli studi che vengono fatti nel resto del mondo da esperti ben più noti e quotati di quanto non possiamo essere considerati noi, quello che realmente sta accadendo è che l'inversione, il cambiamento totale, epocale, che stiamo vivendo porterà a un rilancio enorme della professione giornalistica. Perché? Perché la cultura digitale ci ha trasformati, come tutti ben sappiamo, in piccoli giornalisti ognuno di noi, no? Insomma, siamo tutti dentro questi flussi informativi, questi flussi di comunicazione e quindi non siamo più in una filiera top down in cui un emittente pubblica e un ricevente, un lettore poi viene sottoposto al bombardamento, ma possiamo partecipare in modo orizzontale alle conversazioni. Questa cosa, che ancora non ha trovato naturalmente dal punto di vista economico una giustificazione e quindi c'è una ricerca disperata, più o meno urgente in tutti quelli che fanno questa professione, negli editori soprattutto, di convertire in business questo tipo di tendenza, dal punto di vista giornalistico invece ha una rilevanza fortissima, proprio per quanto riguarda il cambiamento culturale in atto. Le persone non sono giornalisti, si ritrovano però a dover fare tutta una serie di scelte e quindi hanno bisogno di professionisti della informazione, ma più in senso lato della comunicazione, perché anche questo tipo di barriera sta cominciando a scemare e si parla molto più facilmente di comunicazione a 360 gradi, c'è sempre più bisogno di professionisti realmente informati su come funziona questo mondo, su come gestire questo mondo e soprattutto su come riuscire a separare la fuffa mediatica che è quella che affolla la rete e le bacheche di tutti noi che partecipiamo a queste conversazioni, da quelle che sono effettivamente le notizie. Quindi il momento, sebbene decisamente difficile, i dati delle edicole sono drammatici, ma gli stessi dati che abbiamo noi sull'andamento della professione sono ugualmente drammatici, però è un momento che se invece viene compreso nella sua interezza può portare veramente grandissime novità e cose molto interessanti e che aprono prospettive eccellenti. Noi vorremmo che in queste due proposte di legge che abbiamo cercato di esaminare e sulle quali abbiamo espresso un parere nella relazione che vi abbiamo inviato, si tenesse un pochino conto di più di questo aspetto. Ci sembra che purtroppo, per quello che viene fuori da queste proposte di legge, la comprensione effettiva del cambiamento di passo profondo, culturale, ripeto, non meramente tecnologico, non si è compresa. È un aspetto, secondo noi, che non emerge. Grazie.